Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Rision, sono lo sconosciuto e bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a recensire un altro videogioco, esattamente come lo scorso video dove ho recensito Battlefield 1, anche oggi andremo a vedere un altro titolo, e si tratta di Titanfall 2. Andatevi a vedere la scorsa recensione di Battlefield 1 se siete interessati, e anche il relativo gameplay che ho messo per, diciamo, completare un po' la mia opinione sul videogioco. Farò la stessa cosa con Titanfall 2, ho già pronti due gameplay, e oggi andiamo a fare la recensione di appunto questo titolo, seguito di appunto Titanfall, un videogioco uscito mi sembra due anni fa, che io ho preso, ho provato e mi è piaciuto. Quindi ho voluto anche provare questo secondo capitolo di Titanfall. Una grande novità c'è in questo Titanfall, ovvero la campagna single player. Il Titanfall 1 era solamente un gioco multiplayer, e adesso c'è anche una componente single player. Quindi andiamo a vedere la storia e la trama, e come hanno trattato la campagna. Parto dicendo subito quelli che secondo me sono i difetti. La poca intelligenza, diciamo, della IA, o in inglese come si dice AI, che è semplicemente l'intelligenza artificiale dei nemici. Non è sto granché, è un po' semplice e molto molto prevedibile. Un altro difetto è la ripetitività dello stile e degli ambienti interni. Come sono, diciamo, costruiti, come sono progettati, sembrano un po' sempre la stessa cosa e sono un po' rindondanti. Un altro piccolo difettuccio è che la storia poteva essere, e la trama poteva essere un po' più costruita meglio, in certi tratti e poco profonda poteva essere un po' più seria, un po' più articolata e costruita meglio. Poi la narrazione di fondo, ovvero tutta quella storia che sta al di sotto della nostra trama principale, e quindi come l'IMC, questa azienda intergalattica che vuole conquistare e dominare tutti i mondi, come mai fa questo? Perché noi la combattiamo? Da dove arrivano i Titan? Da dove arriva tutta la tecnologia? Che cambiamenti ha avuto il mondo per arrivare a questo punto? Diciamo tutte queste cose di sfondo che ci catapultano nel mondo dove poi ci troviamo durante la campagna non vengono spiegate, non vengono descritte. E questa secondo me è una cosa che potevano invece mettere e rendere il tutto ancora più intrigante e interessante. Adesso passiamo assolutamente ai pregi della campagna, che sono veramente tanti ragazzi. Principalmente nella trama noi siamo un soldato dell'esercito che si oppone appunto all'IMC, e combattiamo appunto come soldato. Durante una nostra missione il nostro capo, o comunque un generale, mi sembra, mentre guida un Titan muore. Quindi noi abbiamo il compito di prendere questo Titan e portarlo alla base, e portare la nostra pelle e quella del Titan in salvo. E questo ci porterà poi a imbatterci in altre piccole missioni, in altri scopi, che ci porteranno poi a essere riconosciuti come dei bravi piloti di Titan, e quindi degni di poter combattere l'IMC assieme a tutti gli altri piloti di Titan. Durante la trama ci si affeziona molto al Titan ABT, e fa capire proprio il rapporto che un pilota ha con questo Titan. È una cosa simpatica che mi è piaciuta come l'hanno inserita, soprattutto perché è quella che ti strappa più risate durante il gioco. Ci sono anche delle piccole battute con questo Titan, che sono comunque molto simpatiche. Uno dei pregi migliori di questo gioco sono le molteplici fasi di gioco, il platforming, lo sparare al nemico, cercare indizi, indagare, trovare persone, trovare altre cose. Lo stealth e i combattimenti con i Titan sono tutte fuse all'interno del gameplay. Ci sono varie fasi di gioco, e in queste fasi ti trovi a dover fare più di una di queste cose contemporaneamente. Ed è una cosa fantastica perché ti coinvolge molto. Il videogioco ti coinvolge sia, ovviamente, per la narrazione, ma anche proprio dal punto di vista del gameplay e di cosa succede proseguendo piano piano nella storia. E questo rende la campagna varia e con molta azione. E poi ogni livello, più o meno, ha una sua particolarità. O meglio, ogni fase della campagna presenta una particolarità che ti farà cambiare, ovviamente, lo stile del gameplay e quello che dovrai fare all'interno del gioco. E queste particolarità sono molto ben pensate e volte al divertire il giocatore. Quindi, in generale, la campagna è buona. La narrazione poteva essere migliorata, però è comunque coinvolgente, ma soprattutto coinvolgenti e varie e innovative sono le meccaniche di gameplay all'interno della campagna. Non ti annoi mai, ogni volta ti trovi in un qualcosa di diverso e questo fa veramente piacere. Quindi la nuova campagna single player di Titanfall 2 merita. Respond Entertainment ha fatto un buon lavoro portando appunto il mondo di Titanfall all'interno di una modalità single player. Parliamo adesso della grafica. Come sempre io non vedrò troppi dettagli perché non avendo un PC potentissimo non posso giudicare. Vi posso dire le prestazioni che ho visto io con i miei computer. Mettendo la grafica completamente al minimo sul mio computer mi girava circa 60 fps nei punti dove ero solo io, diciamo, che giravo e nella campagna. Quando c'è un po' di azione allora 50-60 frame e poi a volte è dei cali a 40, però comunque in generale è molto fluida. Considerate che il mio computer è di fascia media, media, medio alta forse. Ho visto che invece aumentando qualcosa, come ad esempio le texture, mettendoli in media, emettendo la sincronizzazione verticale adattiva che ti blocca i frame a 30 fps e appunto aveva un frame molto costante di 30 fps che addirittura a volte si aggirava fino a 35 con rarissimi cali a 20, quindi comunque molto stabile. La grafica è più leggera quindi rispetto al primo capitolo dove veramente era un qualcosa di pesante, davvero pesante. È molto più leggera questa grafica qua. Infatti il gioco occupa anche meno spazio. È ottimizzata meglio, però secondo me potevano fare un po' di più. È una grafica che secondo me si può godere appieno solamente con un computer di alte prestazioni. Ad esempio con un Battlefield 1 puoi goderti una grafica ottima anche se non hai un computer di altissime prestazioni. Invece questa qua è una grafica un po' più pesantina. Non sto dicendo che graficamente il gioco sia sgradevole ma semplicemente che rispetto ad altri titoli è un po' meno ottimizzato. E ciò è anche logico perché comunque il gioco è molto confusionario ed è azione con molti movimenti quindi ci sta anche che la grafica si appesantisca più facilmente. L'ho testato appunto comunque su due PC e cercando bene le impostazioni grafiche, ottimizzandole bene si avrà un framerate costante adatto soprattutto al multiplayer di questo gioco. E la resa grafica sarà comunque ottimale facendo una buona calibrazione delle impostazioni grafiche. C'è una grande attenzione per i corpi morti per quanto riguarda la grafica per rocce, le piante, le foglie, le pareti, i sassi e tutto quello che diciamo non è vivo. Le texture sono molto dettagliate un po' meno quelle dei personaggi e dei titan e di alcuni ambienti interni. Non potendo mettere una grafica elevata vengono i volti e soprattutto le corazze dei titan e ovviamente le tute dei personaggi perdono davvero tanto per quanto riguarda la qualità. Ovviamente l'interazione con la mappa è nulla perché la distruttibilità del terreno è assolutamente inesistente e a volte il gioco sembra quasi un po' statico infatti gli elementi che non sono vivi sono molto statici però diciamo che poi è una cosa che non ci si fa caso perché essendo un multiplayer non ci si fa caso. Lo si nota più nella campagna certe volte dà un po' fastidio questa staticità dell'ambiente. Bello come sono rappresentati gli ambienti in questo stile futuristico però allo stesso tempo fuso con la natura e con i mondi all'interno dei quali ci troviamo. Gli ambienti sono resi bene, sono caratterizzati bene a volte si assomigliano un po' soprattutto gli ambienti interni però per il resto sono caratterizzati bene. Tanto nella campagna quanto ovviamente le mappe che vabbè nel multiplayer ci si fa meno caso comunque nella campagna ogni ambiente è caratterizzato bene e adatto soprattutto a quello che si deve fare in quel momento nella campagna. Per quanto riguarda la musica e i suoni non ho niente di che da dire si nota poco, meglio non è l'elemento di spicco di questo gioco mi piacciono tanto i suoni dei titan e delle armi sono resi bene, danno proprio l'idea di essere dei robot però per il resto non ho niente di che da dire. Arriviamo adesso a parlare ovviamente del gameplay. Per quanto riguarda la campagna più o meno ho già detto tutto quindi non aggiungo altro. In generale il multiplayer invece è molto simile al primo con una prevalenza della parte diciamo di azione e di frenesia mentre invece sono appunto limitati i cecchini ed è molto meglio avere un approccio diciamo più di assalto, più di impeto. Le armi sono varie e personalizzabili, molto bene con una interfaccia molto ben caratterizzata e pensata anche se a volte un po' le texture, la forma delle armi si assomigliano sembrano quasi tutte uguali. Però dal punto di vista tecnico, cioè di poi come vanno a sparare così sono ben differenziate l'una dall'altra. Mi è piaciuto molto bene la varietà dei gadget applicabili a un titan e la varietà di possibilità per personalizzarli. è davvero varia e ci sono vari tipi di titan ognuno con una sua specialità quello più pesante, quello più agile, quello che vola quello più da combattimento con la spada eccetera eccetera. In questo gioco è importante molto collaborare diciamo quando si gioca in modalità squadra è molto importante aiutarsi a vicenda o comunque combattere in gruppo per far fronte al nemico. A volte le lotte con i titan sono un po' basiche e perdono quella loro bellezza per quanto riguarda l'azione soprattutto se si è attaccati da tanti titan si viene subito distrutti però ci sono momenti in cui si ha davvero un'ottima sensazione di battaglia si ha quasi l'idea proprio di servire a qualcosa in quel momento cercando di sconfiggere il nemico. L'azione non manca in quasi tutte le partite tutte le modalità arriva le modalità sono, non mi ricordo quante comunque un po' più di una decina sono abbastanza varie e mi sono piaciute. Comunque dicevo che l'azione in questo gioco non manca mai c'è quasi in tutte le partite anche comunque per una persona che non è tanto brava negli fps o comunque in generale negli sparatutto non è bravissima comunque il gioco rende soprattutto grazie alla sua frenesia e al suo comparto action che è davvero formidabile. Se lo può godere chiunque anche quelli che non sono bravissimi nel giocare a uno sparatutto il gioco diverte è frenetico l'azione c'è sempre non annoia mai ed è anche molto vario rispetto magari ad altri fps come ad esempio Call of Duty proprio per l'aggiunta del Titan tu puoi sparare ai botte puoi sparare ai piloti puoi combattere con i Titan e quindi c'è molta varietà e tutta questa varietà inoltre è amplificata ancora di più dall'azione e dal comparto action del gioco che è davvero incredibile c'è sempre questa azione in ogni partita non manca mai la frenesia ed è proprio questo il bello del gioco anche la velocità con cui si affronta la partita proprio come si spara non ci sono quasi mai momenti morti e questo è una cosa importante per chi non è tanto bravo a giocare di fps il gioco comunque piace e ve lo dice uno che appunto non è sta gran cosa come bravura piace, diverte e non annoia mai logico chi è più bravo farà più uccisioni però comunque tutti si divertono dal più scarso al più forte ultimo argomento parliamo appunto dei requisiti chiamiamoli così ho già detto più o meno tutto per quanto riguarda la grafica comunque il gioco andatevi a vedere ovviamente requisiti minimi ma considerate che anche in un PC di fascia media medio-bassa o anche medio-alta gira molto molto bene nel senso che potete godervelo senza avere grossi problemi logico la grafica dovrete abbassarla però comunque il gioco si potrà godere si può scegliere di avere un frame rate più alto a 60 frame con una qualità più bassa oppure migliorare un po' di più la qualità però averci un frame rate di 30 fps poi lì dipende ognuno da persona a persona di uno di come si accontenta di come vuole giocare però in generale non serve un computer eccessivamente potente per farlo girare anche al minimo ultimo argomento la longevità del gioco il gioco ovviamente la campagna dura poco è abbastanza godibile anche perché comunque ha i suoi momenti un po' più difficili si può rigiocare tranquillamente sicuramente anche giocandolo uno o due volte non ci si annoierà però non è quella la cosa principale perché il gioco è un multiplayer è un multiplayer e questo appunto lo renderà un gioco che lo si può giocare anche per un anno o due quanto si vuole quindi comunque la quantità di materiale proposto è buona e vale comunque la spesa che vale se fosse solo per la campagna ovviamente vi direi di no ma essendo principalmente poi un multiplayer vale la spesa non sono soldi buttati via in un qualcosa che vi durerà poco e poi la chicca della campagna comunque ci sta e completa il quadro io ho finito questa recensione ho cercato di dire tutto quello che più o meno avevo pensato vi ringrazio di avermi seguito fino qua arriveranno due gameplay per completare un po' questa recensione farvi vedere proprio durante il gioco cosa ne penso io vi ringrazio di avermi seguito ci vediamo in un prossimo video un saluto dallo sconosciuto ciao a tutti ragazzi